Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua con il quarto appuntamento di The Last of Us Buona visione Non evitare, vieni Sono i tuoi quelli, quelli che rimangono, perché credi che mi sia rivolta a voi? Di qua Ma perché adesso? Ce ne stavamo tranquilli, progettavamo di abbandonare la città, ma serviva un capro espiatorio Ci provocavano E ci sono riusciti Stiamo cercando di difenderci Joel, dammi una mano qui Ehi, come va? Lo vivrò Stop, soldati Quella è l'uscita, la porta sotto il ponte Non sono un fan di questa eminità Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile Vediamo come va Andiamo Arriviamo a quella porta Io prendo questo La giustizia non aspetta, soldato Mi hai preso? Grazie Bene Bene Ok, attenzione Grazie a tutti. 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 Troviamoli. Grazie a tutti. Hanno preso Warren. Marlene, dobbiamo andare. Presto arriveranno altri soldati. Hai ragione. Muoviamoci. Grazie a tutti. Forza. Dove andiamo, Marlene? Di qua. Non è lontano. Come stai? Vi faccio andare. Ti faccio vedere. Attenzione. Su, forza. Su, forza. Forza. Ehi. Con me. Con me. Con me. Ehi. 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 Un uomo buono. 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 Grazie a tutti